Sì, sì, tranquillo. Allora, cari amiche, oggi uno scoop. Sono arrivato qui dal bocciolo sposo, ero seduto lì un attimo, a un certo punto mi arriva un messaggio di una sposa di Catanzaro, di Catanzaro che si chiama il nome? Manuela. Manuela. Allora ha detto, ma sei tu? Eccoci qua, ho trovato questa mia meravigliosa sposa. Buongiorno a tutti. Non è stata una cosa, diciamo, combinata, è stata una cosa estemporanea. Sono molto felice, allora, quindi adesso facciamo la prova assieme. Certo, assolutamente, voglio i vostri consigli, assolutamente. Bene, allora adesso poi andremo su a fare questa meravigliosa prova. Allora, come mi hai conosciuto? Perché qui ci sono un sacco di spose che vogliono sapere qui questi abiti di Stefano Bendeleone. Ok, se ho avuto i miei social. Ragazzi, lo sinistro più social d'Italia, quindi ce voglio dire. Ho visto il vestito sui social e ho cercato in calabria che è il rivenditore, così sono venuto a fare il vostro. Fantastico, fantastico. Bellissimo, e tra l'altro hai fatto anche un po' di strada, perché mi avevi già, mi avevi contattato e tutto, quindi insomma, alla fine poi abbiamo realizzato il tuo sogno. Un abito spettacolare, non possiamo dire, perché c'è anche il fidanzato qui, non diciamo nulla, non diciamo nulla. Non possiamo dire quale. Allora, possiamo solo dire al fidanzato che lei sarà stupenda, perché ha scelto un abito importantissimo, bellissimo. Direi da testimonial, quindi c'è proprio un abito incredibile. La mamma che dice? Qui, la mamma è di là, mamma, mamma, qui. Noi qui vogliamo, cioè questa è reality, reality show. Sì, contentissimo, abbiamo trovato qua il signore, quindi stiamo tranquille che ci consiglia. Certo, certo, vi consiglio al top, perché tutte le mie spose sono nel mio cuore e quindi io desidero per loro il top. Vi ringraziamo sempre. Esatto, e quindi lei sarà sicuramente stupenda, per cui sono felicissimo. Allora, facciamo un bel applauso? Sì, sì. Un bel applauso a questa sposa stupenda. Quando è la data? 24 agosto. 24 agosto, quindi insomma, guarda, vedi Linda Bambini, Stefano è il numero uno. Sì, fantastico, vai, viva Linda, qua. Linda è un'altra mia meravigliosa sposa a Umbra, che si sposa proprio a giorni, anche lei con un abito fantastico, quindi direi meraviglioso. Qui saluto tutte, vedi qui c'è un po' di persone che si sono collegate, Antonella, Marisa, Rita, Emanuela, Barbara, poi chi abbiamo ancora? Ora Claudia, salutiamo Linda, mamma mia, Piera, Maria, insomma, Maria Beneduce è la mamma di una mia sposa. Quindi c'è tutto un giro, va bene. Allora, un grande di nuovo, un bel applauso e con tanta gioia vi salutiamo e vi auguriamo una splendida giornata qui dalla Calabria, dal Bocciolo, Sposa, Palmi. Enjoy! Ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao.